Allora, è passato il 25 aprile, non senza polemiche, è un giorno della discordia, potremmo dirlo, anche se qualche tentativo c'è stato fatto. Finalmente iniziano a esserci le premesse perché questa sia una festa condivisa. Il dato oggi è che anche la Meloni vuole che questa sia una festa condivisa, rinnega le nostalgie del fascismo, ne prendiamo atto. Questo rivendica che non ci sia il riconoscimento di una legittimazione democratica, di una forza politica rispetto alle altre e io su questo sono pienamente d'accordo. Guarda cosa ha detto il senatore Scarpinato, sono entrato nel Movimento 5 Stelle perché ritenevo interpretasse i valori della sinistra e ha detto questo in replica alle parole di Giuseppe Conte. Io come la penso? Penso che è tornato il fascismo? No. Penso che c'è una situazione vagamente paragonabile a quella del 1922? Assolutamente no. C'è un popolo che è pronto a farsi sottomettere da un duce? Assolutamente no. Ogni volta che qualcuno ha cercato di torcere la Costituzione in senso un po' più verticale, come hanno provato a fare il centrodestra nel 2006 con il referendum sulla devolution e il centrosinistra PD Renzi con il referendum nel 2016, gli italiani li hanno sderenati. Perché gli italiani, per fortuna devo dire, non arrivo a dire che non vogliono essere governati, ma non vogliono un padrone. Quindi di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un grande esercizio di ipocrisia che si ripete ogni volta che vince qualcuno che non piace al PD. E cioè la richiesta di abbiura al fascismo a chi va al governo. Dopodiché che cosa vogliamo fare? Vogliamo continuare a dire che questi si devono dimettere? Lo possiamo anche dire tutti i giorni. Ma a che cosa serve? Quello che serve secondo me è evitare le ipocrisie, affidare i discorsi sul fascismo e l'antifascismo agli storici. Perché io sono molto interessato a sentire che cosa dice un vecchio comunista come Canfora o un simpatizzante dei ragazzi di Salò come il professor Cardini. Non mi interessa minimamente un dibattito sul fascismo fatto da Elie Schlein e dall'Ollo Brigida. Perché? Perché non me ne importa niente. Non mi sono mai posto il problema di cosa pensa l'Ollo Brigida del fascismo. Non me ne frega niente. È un esercizio retorico che va bene per i giorni del 25 aprile e che andrà bene fra un anno, fra due anni, fino a quando appunto il 25 aprile diventerà la festa della porchetta perché ci avranno fatto dimenticare la drammaticità e la serietà di quella ricorrenza.